ciao amiche e amici dalla vostra gattaluna allora è domenica mattina quindi buona domenica a tutti e tutte volevo farvi vedere la mia skin care aggiornata magari pre trucco magari a qualcuno interessa allora prima faccio il lavaggio con i prodotti che forse ricordate comunque adesso sto usando un uso sempre un detergente delicato per rimuovere polvere sebo della notte un detergente delicato che possa andare anche sugli occhi e sto usando la mousse di codali che è veramente ottima e quindi uso quella sciacquo e tampono e stop quindi al mattino faccio soltanto questo volevo guardare se c'era eventualmente qualche residuo del trucco no il residuo del trucco ieri è impossibile vediamo se le ciglia sono belle pulite sì quest'altra sì sì ok vuol dire che ci eravamo struccati benissimo perché ieri mi era sembrato di fare un po uno struccaggio un po in velocità allora dato che la nostra pelle è stata a contatto con l'acqua per richiudere bene i pori eccetera mettiamo un bel tonico questo lo adoro si compra su yes style è più un kang yule essence è un essence un toner quindi è un po più densa di un tonico ed ha la consistenza più o meno della della fat water di di rihanna mi sembra mi sembra di sì comunque dopo tanto ve lo scrivo gli scrivo tutti i prodotti potete o tamponare allora tamponare esalta l'effetto idratante se lo strisciate diciamo potenziate l'effetto pulente allora poi la nostra solita acqua ipnotica di sanoflore che metto sui polpastrelli massaggio un pochino e poi metto su l'occhio tutto l'occhio così per me un mai più senza sì i miei si stanno preparando che devono che ti scusi l'importante che non dite parolacce poi il l'acido ialuronico complex a 5 pesi molecolari di lab care che l'azienda mi ha gentilmente omaggiato è un siero viso fantastico e senza tema dismentita paragonabile tranquillamente a quello di esteloder io l'ho detto esteloder dimmi cosa ne pensi allora poi metto di bioterm life plankton il l'isir boccetone che vi dura una vita e lo lasciate anche in eredità ai nipotini il siero i sieri non vanno diciamo non è che devono essere assorbiti lo dovete spalmare sul viso e loro fanno il loro sparco lavoro dopo questa ulteriore idratazione continuiamo a idratare con questo qui di l'idratante con tornocchi idratanti ecco c'è anche quello nutriente di miscia sempre sul sito di sstyle se volete con il mio codice tanto non è affiliato io non ci guadagno niente scritto grande tutto maiuscolo gatta 123 in cifre questo in molti mi avete detto che non è disponibile sul sito ma lo riassortiscono in genere comunque ci sono tanti ottimi sostituti per esempio con un prezzo simile simile forse qualche euro in più c'è quello illuminante di sephora che è veramente ottimo la crema idratante è quella di face d anti inquinamento ok è molto liquida è una formula interessante molto molto piacevole all'utilizzo ecco poi amica o amico che scrivi sotto questo video ma è necessario spalmarsi tutte quelle cose sulla faccia poi ciao ciao ragazzi poi 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 crema solare adesso sto usando questa di isna tree ialluronic acid io adoro l'acido ialluronico e con otto tipi di acido ialluronico è una water gel è una formula leggera e che vi dà tanta idratazione quindi protegge perché sono 50 millilitri di fattore protettivo 50 più come spf io ne metto un ciccini intanto oggi io lo metto anche se non esco sì perché vi spiego per il gruppo perché non si sa mai dovreste poter uscire senza un preavviso per qualsiasi motivo vabbè che poi oggi il sole è ben schermato dalle nubi comunque sapete che il sole penetra le nubi comunque andiamo col 50 altro fattore protettivo se mettete un 50 sopra un 50 cosa succede? ottenete 100 mi chiese una volta una mia amica no fa fede il fattore protettivo più alto se voi non so per quale motivo però boh mettete un 30 e poi un 50 come se aveste messo come se aveste messo soltanto il 50 come protezione se mettete un solare sopra l'altro non so perché dovreste comunque sì qualcuno lo fa mi è capitato anche a me nel senso che magari prima di andare in spiaggia metto su il 50 poi quando sono sulla spiaggia ne riapplico magari un altro in formula molto leggera facile da stendere e assolutamente non 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 ottengo il 100 ecco poi metto come primer lo sto usando sempre questo omaggiato da Lab Care SOS Emergenze Imperfezioni per pelli affaticate e stressate non è per le pelli acneiche non credo lì c'era proprio scritto che se non altro ecco sì forse le acneiche se avete macchie da brufoli perché questo è un uniformante ecco qua con questo concludiamo la nostra skin care pre trucco se non vi truccate potete comunque fare la skin care io mi trucco sempre però se non mi dovessi truccare questo SOS Emergenze Imperfezioni è il prodotto ideale perché vi dà un minimo di uniformità di colore e potete anche stare così se amate stare senza trucco niente amiche e amici io vi mando un bacione questo video finisce qui cosa ci abbiamo messo una decina di minuti come vedete niente di esagerato anche se per qualcuno sarà esagerato e siete liberi di pensarlo quindi un bacione da parte mia l'assistente non c'è è andato a comprare il pane e amiche ah dimenticiamo un passaggio importantissimo l'idratazione delle labbra sì poi non ho messo il la crema sulle palpebre non fa niente per una volta non succede nulla dicevo eccoci qui ricordatevi di fare quello che vi fa stare bene e naturalmente alla prossima ciao amici amici mi faccio paura da vicino è andato a comprare